La considerazione è l'ipotesi di fare il politico, è vero perché su questo non c'è dubbio. Il Presidente ha sentito la polemica di nuovo sulle intercettazioni, lei che opinione si è fatta? C'è anche veramente questa nostalgia? A me non pare che ci sia una polemica sull'utilizzo delle intercettazioni, mi pare ci sia la necessità di stabilire regole chiare sull'utilizzo delle intercettazioni. Io credo che sia assolutamente legittimo che si possa stabilire regole su che cosa può essere pubblicabile o no. Abbiamo ad oggi verificato che purtroppo la semplice deontologia dei giornalisti non è sufficiente a stabilire un limite, ma è chiaro, io credo che l'unica questione deve riguardare questo aspetto. Mi auguro che non si rimetta in discussione lo strumento, lo strumento è troppo importante per tutti i tipi di indagini, criminalità organizzata, corruzione, non se ne può fare a meno. Grazie. 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 Grazie.